Non ho ancora finito, non ho ancora finito, non ho ancora finito, aspetta, vogliamo parlare dei calzini, vogliamo parlare dei calzini che io li lascio e tu non me li lavo, vogliamo parlare della camicia, delle camicie che sono sempre di coccoletto sporco e vogliamo parlare dei piselli, i piselli devi scongelarmi e farmi mangiare, hai capito? Io non ce la faccio più che non ce la faccio, da chi sopporto? Se tu non parlassi, saresti un normale cretino, invece vuoi sempre strafare, capito ciò! Salve, buongiorno, aspetta, ha qualcosa per il mal di testa? Un moment, sì però si sbrinca Veloce L'ho preso Grazie Giova Oh, fammi un favore, lascia la scopa, lascia Perchè? Fammi un favore, vedi quei due cavi? Sì, prendine uno Aspetta Beh Giova, ma... Quale? Beh, ma Giova, uno dei tu, da... Beh, avanti dai L'hai preso? Sì L'hai preso? Con l'arancione Sai di qualcosa Giova? No Allora fai una cosa, quello nero non lo toccare, che passano 4.000 volts lì Influisce sulla tua psiche semplicemente a livello subconscio, quindi fisicamente stai bene, tu ripercuoti quelle che sono le tue ansie solo a livello subliminario Dottore? Eh, sì Si ricorda il paziente che crede di essere un treno? Ah, sì sì, lo faccia accomodare No, ha telefonato Dice che viaggia con 25 minuti di ritardo Buongiorno Buongiorno Scusi, ma che stai facendo? Cioè, tagli le mail, le buste e ti conservi i semini Per forza I semini hanno valore E cioè? I semini fanno crescere l'intelligenza Oh In che senso? Le mangi uno Le fanno sviluppare l'intelligenza Possibile Tranquillo Garantito Che cosa costa un semino? Un semino 5 euro E beh però, oh, i risultati si vedono Eccessivo però eh Tutto a un prezzo Fa crescere l'intelligenza Bene ecco, dammi ne tre Vediamo Tre semini? 15 euro Si Si Puoi togli qualche cosa no? Ma che scherziamo? Lo scontro dobbiamo fare Vieni tre semini, avanti Per la mano A posto Vado? Si, li devi mangiare Scusi 15 euro ti ho dato? Tre semini Tre semini Si Scusi Se sei con 15 euro Quanti chili di mele potevo comprare? E quanti semini trovavo dentro? Hai visto che sei diventato più intelligente? Lo ho detto Funzionano allora Eh Eh Ecco, dammi altri due semini Dai no No, vai, vai Che cresce ancora più l'intelligenza Eh, tre Te ne do tre, vai Non so, sei simpatico Non hai tre dei semini? Vieni da me È regolare Grazie Sì Signora Su Su Su, signora Su La vita continua Signora Lo so, lo so che la vita continua Ma quando la sorte si accana Contro noi creati umani Non possiamo sopportare Eh, lo so, avete ragione, signora mia E chi era? Vostro marito, quello? Era il mio terzo marito Avete avuto tre mariti, signora? Tutti morti Tutti morti? Il primo aveva mangiato i funghi velenosi Anche il secondo Aveva mangiato i funghi velenosi Anche il secondo? Signore, mica pure il terzo ha mangiato i funghi velenosi Oh Non li voleva mangiare E se non gli avessi dato una mazzetta nella capa così Mica moriva No Non moriva